Comprare casa significa inoltrarsi nel mondo immobiliare, con un'offerta sempre maggiore di immobili appartenenti a tutte le categorie, dagli appartamenti alle ville, dai terreni edificabili alle case per le vacanze, oppure agli immobili commerciali. Nonostante la grande varietà e quantità di immobili oggi disponibili sul mercato, comprare casa non è una cosa da poco. Bisogna ponderare bene prima di fare qualsiasi passo e cercare di evitare errori. Per questo nasce la rubrica House. Apriamo questa serie di appuntamenti dedicata al mondo delle intermediazioni immobiliari con Vladimiro Gaimari, titolare dell'agenzia immobiliare Casa Felix, qui a Via Nizza 210, qui a Salerno. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno. Quali sono le mosse giuste per comprare casa oggi? Le valutazioni da fare nella scelta dell'immobile giusto sono tante. Chi decide di comprare casa è motivato dalla necessità di soddisfare esigenze sopraggiunte o di coronare un sogno. Quindi nel rivolgersi a un'agenzia immobiliare bisogna far capire chiaramente quali sono le proprie aspirazioni. Cosa fa l'agenzia immobiliare per chi deve acquistare casa? Un buon agente immobiliare deve individuare velocemente la tipologia di immobile che può soddisfare la richiesta dell'acquirente. Quindi mettere la propria organizzazione a disposizione per selezionare tra gli immobili in gestione quella che può essere la casa ideale che coniughi tutte le caratteristiche, quindi la dimensione, l'ubicazione nell'area di interesse richiesta e l'aspetto economico. Prima di passare alle proposte della settimana volevo chiederle, ma esiste un'agenzia immobiliare giusta? Esiste il giusto consulente immobiliare, colui che riesce a individuare la soluzione alle esigenze dei clienti. Coniugando quelle dell'acquirente e del venditore e raggiungendo la soddisfazione reciproca delle parti. Gladimiro, prima di lasciarci, puoi indicare a chi ci segue le proposte più vantaggiose della sua agenzia? Questa settimana abbiamo tre proposte immobiliari davvero interessanti. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Arrivederla per nuove proposte immobiliari e suggerimenti utili per i nostri telespettatori. Grazie a voi.